Grazie a tutti. Sbaglia Valbondione, assume l'iniziativa UEFA-Jet, nettamente la più veloce nei confronti di Toscanini, poi Ossigeno Bigi, Urceus MDM che punta in avanti. E' rimasto scoperto Toscanini, rientrato da Ossigeno, 200 iniziali in 15,7. Toscanini ottiene il via libera da UEFA-Jet, vuole passare senza parziale, Tufano, Urceus MDM lo segue. Il primo quarto addirittura in 31,2, se andate da treno, Toscanini, UEFA-Jet, Ossigeno Bigi formano il treno interno, Urceus MDM e Taiga-Jet a largo. Precedono Usco e DL in terza pariglia. 46 scarsi i 600 con Urceus che si è dovuto adeguare a largo ma senza strappare. Giro di pista in un minuto e sei decimi, ultima frazione in 15 scarsi. UEFA-Jet perde qualche battuta. Urceus non sembra intenzionato ad accodarsi, chilometro in 15,8. Toscanini e Urceus alle prese, Urceus dà il parziale sulla retta di fronte, i due seguiti da Taiga-Jet, poi Usco e DL. Urceus MDM sta sopravanzando Toscanini, mette una testa davanti, Toscanini sembra riuscire a rientrarlo. Poi Taiga, di dentro Ossigeno a largo Usco e DL. Urceus MDM sta per completare il sorpasso, interviene Taiga-Jet ai suoi fianchi. Urceus MDM prova all'allungo decisivo, ancora una di margine su Taiga che ci prova, ma Urceus MDM sembra in una botte di ferro e va a concludere nei confronti di Taiga che rompe in zona traguardo. La vedevamo dal vivo, adesso in tv vediamo cosa accade. Ben prima del palo, rompe Taiga-Jet, per cui Urceus MDM, Usco e DL, Ossigeno Bici, i numeri 10-8-1, e questo il probabile ed ufficioso arrivo della sesta corsa dal Cilidiano di Aversa, era il clou del pomeriggio. Ed il favorito Urceus MDM l'ha risolta con ultimi tre quarti notevoli, 29-3, 29-7, 29-1. Una media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1.14 per il portacolori di Luigi Cozzo, che ne era anche guidatore, è il training di Pasquale Palumbo.